Ciao a tutti, sono Alice di Cicara Caffetteria. Ci troviamo a Kreuzberg sulla Cote Busterdam 1 e oggi vi mostrerò il nostro sorbetto al limone. Questi sono gli ingredienti. La buccia di 3 limoni, 300 ml di succo di limone, 150 g di zucchero, un albume d'uovo e 180 ml di acqua. Adesso ci spostiamo nel laboratorio dove vi mostrerò il procedimento. Siamo in laboratorio e adesso vi mostrerò cosa abbiamo già preparato. Ecco qui l'ebollizione di zucchero, acqua e le scorze di limone. Inoltre abbiamo già montato l'albume che va messo in freezer per 3 ore e ad ogni ora mescolato. Noi abbiamo già preparato il composto, infatti qui abbiamo l'albume congelato. e allora facciamoci il lavoro. Siamo qui da circa quattro anni e mezzo e all'inizio si chiamava Coffee Corner Cicala nasce due anni fa Il nostro malgrado durante il Covid abbiamo potuto ristrutturare e abbiamo potuto cambiare il concept del Coffee Corner e trasformarlo in Cicala Caffetteria in modo tale da portare i nostri prodotti palermitani qui a Berlino in Cicala Caffetteria in Cicala Caffetteria